Domenica, domenica 30 di dicembre, buongiorno e benvenuti come di consueto alla rassegna stampa breve di Video 33 per quanto riguarda i quotidiani locali e naturalmente anche per quanto riguarda l'informazione nazionale. Andiamo subito a vedere il meteo e con l'aiuto in regia di Daniel Sumerer. Andiamo a inquadrare l'immagine che ci arriva da San Cassiano per quanto riguarda le prime luci di questa giornata. Vediamo la neve naturalmente in montagna e poi un cielo nuvoloso che dovrebbe essere la caratteristica per quanto concerne questa giornata, almeno così come ci racconta l'ufficio meteo della provincia di Bolzano. Ecco qui la grafica. Vediamo soprattutto sulla cresta di confine, il tempo molto nuvoloso con pioggia e possibili nevicate. Per quanto riguarda le temperature, Bolzano dovrebbe fermarsi a 7 gradi, 2 gradi, invece la colonnina di Mercurio dovrebbe registrare a Vipiteno e a Brunico. Appunto dicevamo sul cielo prevarranno nubi con possibilità di deboli rovesci sulla cresta nei confini, il limite della neve tra gli 800 e 1100 metri. Andiamo a vedere qual è la situazione per quanto riguarda il vicino Trentino, un po' diversa, migliore si potrebbe dire. Temperature massime praticamente quasi simili, Trento dovrebbe arrivare a 8 gradi, 6 gradi a Moena, 4 gradi a Malè, cielo soleggiato su tutto il territorio, debone nubi al confine verso nord e poi 20, 20 soprattutto nelle vallate. Vediamo adesso le aperture dei quotidiani di quest'oggi. Partiamo con l'Alto Adige, la cronaca. Maria Magdalena è stata strozzata a Brunico, l'autopsia conferma l'ipotesi, omicidio, caccia all'assassino. Informazione del Corriere dell'Alto Adige, prima pagina anche qui dedicata alla cronaca, omicidio in pusteria, prima picchiata, poi strangolata, l'esito dell'autopsia, segni di colpi ad occhio e nuca, indagine sulle ultime ore di Marlene. Poi l'informazione del vicino Trentino con il quotidiano Adige, apertura dedicata al fisco, fatture elettroniche, caos, peterlana della Fiepet, propongo lo sciopero fiscale. Il Trentino, altro quotidiano della provincia di Trento, 3.000 trentini con l'influenza, l'epidemia verso il picco, finora i bambini i più colpiti. Informazione, informazione in lingua tedesca, oggi, domenica, in edicola, il settimanale Z, che apre con il grande successo, il doppio successo di Dominic Paris, che dopo la discesa libera a Bormio trionfa, anche per quanto riguarda il Super G. E come di consueto, come ogni domenica, andiamo a vedere la prima pagina del settimanale germanico Bild am Sonntag, dedicata interamente alla politica. L'interrogativo è, abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno di specialisti in politica, se lo chiede la Bild am Sonntag, facendo l'esempio del ministro del lavoro, ad esempio, che non ha mai lavorato, tranne che in politica. Torniamo all'informazione nazionale, Corriere della Sera, a tenere banco la manovra economica, spunta la flac tax allargata, sconto per un anno anche oltre il tetto Forza Italia, con i gilet azzurri alla camera. Si parla di manovra anche nell'apertura del quotidiano economico, il sole 24 ore, ok, alla manovra da 31 miliardi, ma solo un terzo parte subito. E adesso, prima di chiudere questa rassegna stampa breve, andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti da non perdere. Ecco qui la grafica, oggi Coppa del Mondo Tour de Ski a Dobbiaco e sempre oggi alla Forza di Lagundo Magia, la foresta natalizia, dalle 15 alle 16, ancora oggi nel nostro capoluogo si parla di hockey, si parla di campionato Ebel in campo, una partita interessantissima, il Bolzano nel derby contro l'Innsbruck. Andiamo a vedere cosa succede domani dalle ore 12 e fino a sera, sempre alla Forza di Lagundo, spazzacamino alla foresta natalizia e poi il primo gennaio del 2019 per gli amanti della musica, al Cursal di Merano, il concerto di Capodanno. E con questa notizia è davvero tutto da parte nostra, naturalmente un sereno augurio di buona domenica. Grazie a tutti.